Con mister Ferullo per analizzare l'1-1 di Costa D'Amalfi Scafatese, mister una partita che forse si poteva vincere ma in qualche momento si poteva addirittura perdere. Oggi forse quello che non ha girato, almeno al mio modo di vedere, è il centrocampo. Spesso c'è stato troppo spazio tra difesa e centrocampo e tra centrocampo e attacco e alla fine loro hanno giostrato giocante a specchio. Un punto perso o un punto guadagnato? Un punto guadagnato perché, come ripeto ogni volta, noi facciamo corsa su noi stessi, quindi avendo mosso la nostra classifica è un punto guadagnato. Riguardo alla disamina, oggi eravamo poco lucidi, un po' stanchi. Non ci dimentichiamo che abbiamo affrontato tre trasferte dure e clanese, Santa Maria e lo stesso Solofra che addetti di molti sul nostro 0-3 dicevano che era una squadra materasso. Invece nel calcio non c'è niente di scontato e ha battuto il Cervinale. Quindi sono partite che comunque, per fare quei risultati importanti che abbiamo fatto, hanno tolto energie mentali e fisiche ai ragazzi. Però voglio elogiare ancora una volta il gruppo perché penso che se avessi allenato un'altra squadra questa partita sarebbe terminata sicuramente con un netto vantaggio da parte della Scafatese. Mister, analizzando un pochino, spostiamo sul campionato che diventa bellissimo, vuoi perché i Cervinale ad Agropoli lo fanno diventare bellissimo di giornata in giornata, perché perdono, non perché vincono, o perché voi dietro, quarta e quinta, non riescono ad approfittare dei passi falsi. Però, al di là di tutto ciò, io dico che sette squadre sono in lotta per i primi cinque posti, perché forse Azzardo, Sant'Agnello ed Eclanese per il primo posto. Però per i play-off sicuramente ci sono, è ironia della sorte, domenica c'è Sant'Ommaso e Eclanese e Sant'Agnello costa da Malfi. Sant'Ameria gioca con la Scafatese. Diciamoci, ci sono dei grossi incroci per un campionato che sarà sicuramente spettacolare fino alla fine. Sì, sicuramente, uno quando vede il calendario all'inizio delle partite non dà importanza, invece ad oggi la classifica sta dicendo che ogni turno diventa, può dare motivi di discussione, motivi di attenzione, come tu dicevi poc'anzi, la settimana prossima ci saranno neanche al fallo apposta degli scontri tra terza e sesta, settima, quarta e settima. Voglio dire, il campionato è aperto, non so rispettivamente a quelli che sono gli obiettivi delle altre squadre, ma è aperto e questo fa sì che il gioco del calcio è sempre lo sport più bello. C'è una squadra che è a Mazzagrandi che è il Castel San Giorgio, ha vinto anche oggi con il Sant'Ameria. Diciamo che è un campionato dove, mister, se vogliamo analizzare c'è tutto e di tutto, anche perché anche la parte bassa non è chiusa, perché Solofra e Palmese hanno guadagnato i punti, quindi la Scafatese con i suoi 28 punti deve stare ancora attenta, anche se è una buona squadra, l'abbiamo vista oggi. Mister, diciamo sempre e lo ribadiamo, un campionato di quelli belli in cui, a mio parere, è sempre il mio personale, una delle squadre che gioca un ottimo calcio, è proprio la sua. Oggi forse non al massimo, come ha detto lei per stanchezza o altro, però Costa da Malfi è lì e strizza l'occhio ai play-off e sarebbe un grandissimo risultato. Sì, condivido a pieno, si è spaccata in due la classifica, c'è chi ovviamente lotta per le parti alte, chi per le parti basse, non ci sono squadre materasso che stanno tranquille, sia per chi si deve salvare e una tranquillità positiva per chi vuole tentare fino all'ultimo di provare a vincere. Ti ringrazio per i complimenti che hai fatto alla squadra, ma io dico sempre, se noi siamo il Costa da Malfi, diamo filo da torcere a tutti e come avete ben visto oggi nel secondo tempo, con gli innesti dei nuovi che sono entrati alla grande, abbiamo messo comunque alla corda una Scafatese, rinnovata con giocatori importanti a dicembre, che si salverà tranquillamente. Grazie. Commissario Amaranta, per analizzare la gara tra Costa da Malfi e Scafatese, un 1-1 che accontenta tutte e due le squadre, buona gara, una buona Scafatese, sicuramente un punto che vale tanto, anche perché la lotta diventa serrata sia in quota che in testa. Sì, è una partita molto equilibrata, tatticamente giocata bene dalle due squadre e certamente questo è un campo difficile, il Costa da Malfi è una squadra secondo me in questo momento la più in forma, quindi oggi venire su questo campo e prendere un punto comunque per noi è un risultato molto positivo, anche perché vedendo la partita abbiamo sofferto il loro predominio di possesso palla, però diciamo che non abbiamo rischiato proprio in tante occasioni. Ecco, mister, una lotta nella parte bassa della classifica, oggi vi vede portare a casa un punto, anche perché contemporaneamente ci sono state le sconfitte del Valdiano, del Faiano, del San Vito Positano, l'unica squadra che respira è proprio la Palmese, quindi c'è Bacar per la quarta piazza, tenendo conto anche che il solo fra battuto del Cervinara, quindi l'ultimo posto è ancora da assegnare, però le altre dietro forse hanno poche speranze. Sì, ancora tutto aperto sinceramente per decidere la critica per l'alto, ecco, sicuramente prendere oggi un punto su questo campo per noi, ripeto, è molto importante, anche perché abbiamo domenico un'altra trasferta a Santa Maria, quindi abbiamo fatto tre trasferte in otto giorni, perché ci siamo trovati poi a recuperare quel turno infrasettimanale dove siamo andati a San Vito Positano, quindi sinceramente il calendario in questo momento è secondo me quello più compresso, però facendo queste prestazioni noi siamo soddisfatti e sicuri di poter comunque tirarci fuori matematicamente al più presto. Lei ha parlato del Santa Maria, Santa Maria che oggi ha perso in casa del Castel San Giorgio dopo che vinceva addirittura 2-1, la lotta in vetta si è riaperta, nonostante la sconvitta del Cervinara, la sconvitta dell'Agropoli, il Sant'Ommaso riconquista la seconda piazza, il Costa D'Amalfi prende un punticino che la tiene al quarto posto, si fa sotto le clanese, diciamo queste sei squadre con il Sant'Agnello che strizza l'occhio, sono le sette squadre che dovrebbero contendersi i primi posti. Sì, sembra che questo campionato non lo voglia vincere nessuno, perché non si riesce a staccare effettivamente in maniera nitida la prima. Oggi sì, ne ha approfittato solo il Sant'Ommaso da come mi stai dicendo i tuoi risultati e quindi è ancora tutto aperto, veramente un campionato avvincente, molto equilibrato, dove effettivamente oggi si riesce a far fatica a andare a giocare sia se l'ultima in classifica e anche la prima comunque trova delle difficoltà con le squadre di in mezza classifica. Grazie mister. Ciao, grazie a te.